Aspetto. Il grande bovaro svizzero è una razza da tiro e da caccia, è un cane di grossa taglia con un osso massiccio e una forza fisica incredibile. Nonostante le sue ossa massicce e la sua muscolatura, il cane è abbastanza agile da svolgere versatili compiti agricoli nelle regioni montuose da cui proviene. Colore nero su dorso, orecchie, coda e gran parte delle zampe del cane. Dovrebbe esserci ruggine sulle guance, dovrebbe esserci un'impronta digitale sopra gli occhi e un colore rosso dovrebbe apparire sulle gambe tra il bianco e il nero. Il bianco dovrebbe essere sul muso, sulle zampe, sulla punta della coda, sul petto e in alto dal muso, e tra gli occhi. La simmetria dei segni e della colorazione non è una priorità nello standard del Kennel Club per la razza. La funzione e il temperamento sono prioritari, poiché il cane deve lavorare. Spesso puoi sentire la frase la testa non tira il carrello, o il marchio non tira il carrello, il che significa che le proprietà cosmetiche non sono ben apprezzate. Il grande bovaro svizzero, o grocer, è una razza di cani da pastore imparentata con San Bernardo. Utilizzato per la custodia del bestiame, e il trasporto di merci. Imbrigliato a un carrello, questo cane potente può trasportare carichi piuttosto significativi e trainare uno sciatore. Ha un carattere calmo e amichevole, si comporta con dignità, senza servilismo. Punti salienti e fatti interessanti. Il grande bovaro svizzero è una razza relativamente nuova del club AKC, pienamente riconosciuto nel 1995. Il Greatzwiss è la 137esima razza dell'AKC. Il Greather Swiss è una delle quattro razze di cani da montagna, allevate in Svizzera come cane da pastore, da guardia e da tiro. L'American Club of Swiss Mountain Dose è stato fondato nel 1968 con lo scopo specifico di ottenere il riconoscimento della razza da parte dell'AKC. La grande razza svizzera è stata ripresa all'inizio del 1900 dal famoso allevatore di cani dottore Albert Heimby Zurigo. Il grande bovaro svizzero è stato introdotto negli Stati Uniti quando George Frederick e Patricia Hoffman hanno visto la razza in esposizione a Francoforte, in Germania, nel 1967. L'anno successivo, gli Hoffman, insieme a Perrin Rademacher, importarono i primi svizzeri negli Stati Uniti. Storia della razza. L'origine del grande bovaro svizzero è sconosciuta. A partire dal 1515, le valli remote della Svizzera furono più o meno isolate dalla storia mondiale per tre secoli. Alcune razze di cani sono state create per consanguineità e i cuccioli sono stati dati ai vicini. Esistono diverse teorie sull'origine delle quattro razze di Bovari. La teoria più diffusa è che i cani discendano dal Molosso, un grosso cane di tipo mastino che accompagnò le legioni romane durante la loro invasione delle Alpi oltre duemila anni fa. La seconda teoria è che nel 1100 hachi fenici portarono con sé una grande razza di cani negli insediamenti spagnoli. Questi cani in seguito migrarono verso est e influenzarono lo sviluppo del mastino spagnolo, dei grandi Pirenei, del Dogue de Bordeaux, e dei cani da montagna. Una terza possibilità è che la razza di cani di grossa taglia fosse originaria dell'Europa centrale durante il periodo neolitico, quando le persone allevavano colture selvatiche e domestiche e usavano animali domestici. Indipendentemente dal fatto che esistesse una grande razza domestica nelle Alpi quando i Romani invasero, il grande cane da montagna svizzero è quasi certamente il risultato dell'accoppiamento di cani da fattoria locali con grandi cani di tipo mastino portati in svizzera da coloni stranieri. I primi antenati del grande bovaro svizzero erano usati da agricoltori, pastori e commercianti dell'Europa centrale. La razza è stata allevata come cane da tiro che traina carri pesanti, custodisce e sposta bovini da latte, nonché cane da guardia e compagno domestico. Tratti caratteriali distintivi. Il grande bovaro svizzero soddisfa con entusiasmo e forte affetto le persone e i bambini. Questa razza è socievole, attiva, calma e dignitosa. Mentre la razza ha bisogno di esercizio, non ha bisogno di molto spazio. La razza sta spesso accanto ai suoi proprietari, raramente andando lontano. Non saranno felici di vivere in un asilo nido, vogliono godersi la loro famiglia. Bramano l'attenzione. I grandi bovari svizzeri sono lavoratori coraggiosi e dedicati che si sforzano di compiacere. Il grande bovaro svizzero è sicuro, la razza è gentile con i bambini. Possono essere testardi e determinati. Il grande bovaro svizzero è una razza intelligente e impara in fretta. Il livello di attività del grande bovaro svizzero è variabile. Sono capaci di essere atletici, ma di solito questa attività è spasmodica, sono attivi per brevi periodi di tempo, seguiti da un sonno prolungato. Vogliono stare con i loro padroni, il loro livello di attività corrisponde più spesso al livello di attività familiare. A loro piace partecipare alle escursioni. Essendo attento, il grande bovaro svizzero è un buon cane da guardia. Tendono a notare tutto ciò che li circonda e danno rapidamente l'allarme. I grandi bovari svizzeri accettano uno sconosciuto che non rappresenta una minaccia. Sono fiduciosi e a loro agio in luoghi sconosciuti e sono resistenti a strani rumori e estranei. Accettano altri tipi di cani. Questa razza gigante matura lentamente sia nella mente che nel corpo in due o tre anni. L'obiettivo dell'addestramento di questo cane è creare fiducia tra il proprietario e il cane in modo umano. Possono essere piuttosto rumorosi nella loro giovinezza e hanno bisogno di un addestramento costante e affidabile per sviluppare i loro manierismi e l'autocontrollo. Come tutti i grandi cani da lavoro attivi, questa razza dovrebbe essere ben socializzata in tenera età con altri cani e umani, e dovrebbe ricevere attività e addestramento regolari. Manutenzione e cura. Il grande bovaro svizzero può seguire molti tipi di diete, dalle crocchette alla carne cruda. Il problema di alimentazione più serio è la sovralimentazione, che porta a molti problemi digestivi, comprese le feci molli, così come l'obesità, che è uno dei problemi di salute più gravi nella razza. Hanno bisogno di un regolare taglio delle unghie, pulizia delle orecchie e dei denti. Il grande bovaro svizzero richiede esercizio moderato. Una passeggiata intorno all'isolato, o una passeggiata nei boschi di solito, soddisfa le loro esigenze quotidiane di esercizio. Questa razza è molto più adatta per la persona, che cerca un compagno di escursioni che per la persona, che cerca un compagno di ciclismo o maratona. Grande bovaro svizzero è molto motivato dal cibo, e risponde bene agli allenamenti a base di cibo. Tuttavia, possono anche essere testardi, quindi i loro proprietari devono essere più determinati di loro. Come per tutti i cani, si consigliano lezioni di socializzazione precoce e addestramento dei cuccioli. Salute. L'incontinenza urinaria è abbastanza comune nei cuccioli, e nelle femmine sterilizzate. L'epilessia può verificarsi in qualsiasi ceppo, marcatori genetici per questo non sono ancora stati identificati. Tutto sommato è una razza molto sana. I cani più pesanti, come il grande cane da montagna svizzero, tendono ad avere una durata di vita più breve rispetto ai cani di taglia medio-piccola. La durata della vita è inversamente proporzionale alla taglia della razza. In una fonte, l'aspettativa di vita dei grandi bovari svizzeri è indicata da 10 a 11 anni, in un'altra da 8 a 10 anni. Un sondaggio dell'Usred Club mostra che l'aspettativa di vita media è di 6,75 anni. La durata della vita dei cani, può variare da paese a paese, anche della stessa razza. Prezzo e come acquistare correttamente. Il costo di un cucciolo, dipenderà dalle sue prospettive in una carriera espositiva. Una classe di animali domestici costerà in media 500 dollari, una classe di razza, costerà 600 dollari e il costo di un cucciolo di classe spettacolo inizierà da 1000 dollari. Linea di fondo. Il grande bovaro svizzero è una razza canina nata nelle Alpi svizzere. Il grande bovaro svizzero è probabilmente il risultato di un incrocio tra cani autotoni e grandi mastini portati in Svizzera da coloni stranieri. La razza era una volta molto popolare in Svizzera. È noto che alla fine del XIX secolo la razza si è quasi estinta, poiché il lavoro di questa razza è stato svolto da rappresentanti di altre razze o macchine. Un cane di questa razza è grande, con ossa pesanti e grande forza fisica, ma ancora abbastanza agile per svolgere compiti versatili in fattoria, come viene utilizzato. Secondo lo standard di razza, il mantello dovrebbe essere di tre colori. Bianco, nero e rosso. I rappresentanti della razza sono generalmente socievoli, attivi, calmi e soddisfatti della loro posizione in famiglia. Tra i quattro sennenundo cani da pastore svizzeri, come vengono anche chiamati, questa razza è considerata la più antica, oltre che la più grande.